Ci faranno le fotografie, ci scriveranno, i devolvono, diciamo, più negativi questa attrezzatura. Questa attrezzatura consente tre tipi di comando diverso. Un comando è completamente normale, quindi l'avventura c'è l'indicazione di alcuni delle emissioni, velocità, eccetera. Oppure ci sono alcuni sistemi che, una volta impostati all'attitudine, il lavoro non si sposta, ecco, ma è il rispostamento.